Stiamo per chiudere il dossier sull'Irva di Taranto. Sono queste le parole con cui il Premier Giuggett Peconte ha indicato come l'Esecutivo stia accelerando per la chiusura del dossier sul siderurgico tarantino. Una chiusura che dovrebbe partire dall'assunto del Premier che non è più il tempo dei rinvii ma l'Italia deve tornare a correre. Anche se al momento sui contenuti dell'intesa non c'è ancora molta chiarezza se non nelle parole che nei giorni scorsi ha pronunciato il titolare del Mise Stefano Patuanelli in cui indica che l'obiettivo condiviso sia quello di arrivare ad un'acciaieria elettrica nel giro di 4-5 anni con la chiusura dell'aria caldo e la completa decarbonizzazione magari addirittura con una riconversione all'idrogeno. Il che il dossier stia arrivando alle sue ultime battute è stato confermato ufficiosamente anche da politici locali come il governatore pugliese Michele Emiliano che proprio sulla decarbonizzazione aveva fatto una grandissima battaglia perché ILVA diventasse carbon free. Di contro però c'è stato un problema con i sindacati che a partire dal segretario generale della FIOM Francesca Redavid ha definito insopportabile il modo di agire dell'esecutivo per la trattativa sull'ILVA. Infatti il rappresentante dei sindacati ha detto siamo completamente tagliati fuori e apprendiamo le notizie dai giornali. Un elemento che si è aggiunto alle tensioni che si sono verificate con l'azienda per il tema degli ammortizzatori sociali dove non si sono raggiunti né integrazioni salariali né rotazione per gli addetti in cassa sta aumentando il clima di tensione con i lavoratori. Quello che però si può intuire è che le prossime settimane probabilmente saranno quelle necessarie, quelle finali per capire una volta per tutte il futuro del principale polo siderurgico italiano e dei suoi lavoratori.